Un esempio non solo per l'arma dei carabinieri ma per tutta la cittadinanza. Questa mattina le autorità militari riunite al cimitero di Piacenza hanno reso omaggio alla memoria del brigadiere Alberto Araldi, medaglia d'oro al valor militare. Il comandante partigiano, protagonista di numerose imprese durante la seconda guerra mondiale, nel febbraio 1945, mentre tentava di entrare in città per compiere un'ennesima azione, fu tradito da un delatore e catturato dalle guardie fasciste. Dopo essere stato rinchiuso nelle carcere di Piacenza venne fucilato proprio nel cimitero cittadino, esattamente 69 anni fa, il 6 febbraio 1945. Un eroe che appartiene a tutti, non appartiene solo all'arma dei carabinieri ma appartiene anche alla memoria dei partigiani e dei cittadini di Piacenza. Un eroe che giovanissimo si è molato per creare, per salvaguardare dei valori di cui poi abbiamo in qualche modo tutti beneficiato negli anni successivi. Ricordarlo è sempre importante, è sempre necessario, è sempre doveroso. Questa mattina è stata deposta una corona dall'oro sulla lapide dedicata alla memoria dei partigiani uccisi durante il secondo conflitto mondiale. Alla cerimonia partecipata una rappresentanza dei carabinieri di Piacenza e i membri dell'Associazione Nazionale Carabinieri del Capoluogo.